Nel paese felice si prepara un gran banchetto e tutti sono contenti, ma si oscura la pallata. C'è GioCondor in picchiata. Passo le medaglie, comandante. Avete colpito ancora. E che? C'ho scritto, GioCondor? Se ti prendo ti seguo il mirino, GioCondor. Gigante, pegati tu. Che bene, non so io. Grazie, alla nostra. Alla nostra. Hai 70. Hai 1. E 2. La miso plane in casa è fatto bene in cucina. Certo. Buon chef. Ci manca il riso. Aspetta. Non provare il tavolo qua, ci facciamo un po' di pezzo. Grazie. Andiamo a tirare dietro la faccia, ragazzi. Vai? Anche perché sono tre giorni che mangi come un dinetto. Domenica non l'ho mangiato. Domenica poverina. No. Ate solo. Anche perché mi passa un attenzio. Anche perché mi passa un attenzio. Magale. E' un attenzio. Basta! Ma darvi a lei! Soffi lei! Soffi lei! Soffi lei! Vediamo che vorrà via la donna! No! 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 Vi ha detto! Ma c'è? No! No! Noi siamo terribili! Ma Dio che benedica! Ecco giusto! Mandala a Nenni! Mandala a Mio Morose! Ecco cosa si scrive! Mandala a Nenni! Dopo ce le mandi eh Lolli! Bisogna proprio marcare le parole! Che volevamo firmare! Marcare le parole! Buongiorno! 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 Erano già così! Ma... No! 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 Grazie a tutti.